spettacolare e molto equilibrata. Eccoci qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara? Ma entrambe le squadre si sono giocate la gara secondo le loro possibilità di questo momento. Poi è chiaro, il risultato lo determinano anche gli episodi. Oggi è andata così. Siamo ai titoli di coda. Un doveroso ringraziamento.